Carmelo Casano alla festa della macchia mediterranea nella giornata nazionale degli alberi 2019 nel bosco di Santo Pietro. Da consigliere nazionale del Masci, le comunità scout adulte sostengono e sono sempre attenti ai temi ambientali nell'ottica di un impegno per l'ecologia integrale. Credo che sia uno dei temi più importanti che state trattando. Oltre a dircelo la legge scout, i scout amano e rispettano la natura, ma già partendo da San Francesco d'Assisi che praticamente ha lanciato questa ecologia integrale ripresa poi da Papa Francesco e guarda caso dopo l'ha laudato sì anche l'ONU dopo qualche mese ha sottoscritto questo documento tra tutte le nazioni del mondo di prestare attenzione all'ecologia integrale che vuol dire tenere conto anche degli aspetti sociali, degli aspetti economici oltre che quelli dell'ambiente. Ed è su questo che noi ci scommetteremo, si scommetterà anche il Masci nazionale proprio tra le linee programmatiche che sono state adottate nell'ultima assemblea c'è proprio la sostenibilità ambientale perché la natura noi l'abbiamo un po' trascurata in questi decenni e quindi noi scout oltre che amarla e rispettarla devono anche custodirla e devono anche consegnarla alle future generazioni quindi su questo noi lavoreremo. E con questo augurio ringrazio Carmelo Casano, consigliere nazionale del Masci. Grazie a voi. Grazie a voi.